musica 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 3,2,1 salve a tutti blazers e bentornati nella pixelmon sono qui in compagnia di arctic runner benvenuti al video di eren blades oddio aspetta ho lanciato la mia pokemon no non cadere lì su cosa è successo c'è un hitmo lì no guarda cosa c'è lì su come la prendo eren aiuto dove l'hai messa dai no ma perchè dai rompi il pochi sempre allora arctic in questa puntatona dobbiamo catturarci il nostro primo pokemon o meglio lo catturerò io nella puntata seguente che sarà sul canale di arctic per cui dopo questa andate nel canale di arctic troverete no il giorno dopo tecnicamente perchè il giorno dopo andate sul canale di arctic e troverete anche la sua puntata in cui catturerai il suo primo pokemon dato ciò allora arctic mi crafto subito dalle ultraball perchè abbiamo piantato le bicocche gialle e intanto abbiamo fatto quelle nere e poi c'è una novità che però non abbiamo detto abbiamo messo la poker fucking radar ok perchè così ragazzi è più facile trovare i pokemon allora spiego velocemente cos'è la poker radar mentre tu sei lì va bene perfetto allora premendo P ragazzi abbiamo all'interno ci si apre un menu in cui noi possiamo inserire sia il nome del pokemon che vogliamo cercare e in più ci aiuta in vari modi allora i pokemon standard ce li indica col giallo i pokemon shiny con il viola i boss ce li indica con l'arancione anzi nelle vicinanze ne abbiamo qualcuno tra l'altro e poi foundpixelmon.color che non so cosa sia francamente se lo sapete voi magari ce lo scrivete con un commento questa sia la leggenda della minimap semplicemente che ti dice i pallini gialli sono pokemon regolari no non credo vabbè in caso se voi ne sapete più di noi ce lo potete scrivere in un commento e non è che c'è problema esattamente esattamente allora io intanto ho craftato il disco della ultraball e vabbè avete visto come si fa mettete in fila 3 ghicocche cotte 2 nere ai lati e al centro quella gialla poi si martella adesso sto facendo l'ultimo poi le craftiamo e partiamo subito alla cattura esatto alla cattura allora le tue preferenze per la prima cattura eh si appunto ci stavamo pensando però effettivamente bisogna un po' accontentarsi di quello che c'è qua si perchè alla fine lui c'è il pokemon che è ancora a livello 5 vero? si esatto quindi allora io ho craftato le ultraball perfetto vediamo per vedere una si aspetta dove sei oh guarda che figa la skin passa oddio guarda che figata si madonna sono fatte benissimo sono benissimo tieni questa è tua questa è tua ok eccola qua poi nel mio episodio al massimo ne craftero un altro allora ognuno ha le sue scelte qui io stavo pensando eh a un pokemon elettro in realtà per il mio poi ovviamente il caso che decise perchè non è che cioè se mi capita un leggendario davanti non è che gli dico no mi fa schifo devo che trovare pokemon elettro esattamente ecco ma io starei cercando innanzitutto un pokemon un po' debole per allenare sin da qui eh cadabra qui non mi sa che non vanno bene non mi sembra in casa eh oh una del chicocca gialla la raccolgo aspetta eh si raccoglie intanto basso un po' la distanza di render ah però è già 6 chunk facciamo 4 chunk eh tra l'altro ricordiamo una cosa con le shaders eh si i frame si che calano un po' eh prima di registrare eh stavamo ora parlando di una cosa allora il mio mudgip perchè alla fine sarà il problema principale di Eren alla fine perchè tu un pokemon fuoco io ce l'ho terra acqua esatto nello starchetto di cavallo asiato cosa che schifo che schifo eh che cazzo e quindi tecnicamente l'unica debolezza che è debolezza guarda come dico debolezza che ha il mio pokemon è praticamente l'erba quindi a lui serve un marip guarda lì ma se io gli lancio subito la ultraball eh no è vero spero che te ne fai di un pokemon elettrico eh ti faccio il culo figa eh come però il mio te è lanciata eh beh bellissimo no non l'ho preso vai aspetta ma se vuoi te lo no te lo devi indebolire ok secondo me lo prendi eh vediamo ma si ah minchia l'hai preso l'ho preso vai sfidiamoci bellissimo ah ma è livello 7 si è livello 7 ma vaffanculo ma come lo teneremo ma è scarso e lo so che è una pippa assurda ma vaffanculo no mi ha sfidato un no spiro mal qua abbiamo catturato il primo pokemon ok facciamo una lotta per testarlo con quanto te lo ammazzerò vai vieni sulle fronde di questi alberi angolo sassi si ok gran sasso vieni aspetta vai catturo anche Ekans così ti eh quello potrebbe essere un buon pokemon aspetta me lo seleziono il pokemon da lanciare sai che non mi ricordo ehm mi sa con ehm cristo non te lo so dire con cristo anche perfetto vabbè tanto li devi usare tutti e due perchè ti ho uno uguale non è che cambia no? si vai tre due uno via grand micca però stavolta poteva anche darci sì ma infatti che cazzo dobbiamo fare più di così ma scusa tu lancia il tuo io glielo lancio addosso esatto vai uno contro due sarebbe sleale ma noi 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 con fang of berlanto lo uniamo one shot? no no ma io servirà solamente per indebolirlo io sarò slealissimo vai azione ok pokemon cambia vai marie eh sì vabbè ha preso ha preso un bel colpaccio ma che sa come mosse? la merda c'ha ma dai ma che pokemon di merda non ha neanche un tono shock c'ha tono onda cazzo eh beh potresti paralizzarlo comunque hai perso qualcosa mi fa pensare alla tua scuola sai che perderò lo stesso sì l'ho paralizzato oddio vai azionazione adesso sono più veloce io perchè si paralizza oddio sei più veloce però non è che oddio t'ho unato tipo mmmm il super effective è sale di due livelli oddio livello 10 tra un po' si evolve il mio io sono ancora all'inizio del gioco oh no ma no stai la proviamo subito no pistola acqua no no paralizzato mannaggia godo come un porco ecco vabbè tanto sei morto nooo madonna maddie sei un mostro nooo allora adesso si torna però in casa che devo univi 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 al 10 lo voglio lo voglio si sto ricordando lo catturo lo catturo voi no prova a indebolirlo ah non vuole che ti ammazzo di poco ma nooo eh vieni qua ti cattura così proprio in maniera cattiva neanche ti indebolisco vai ok ok attenzione ivi al 10 è difficile ivi al 10 esatto mattone oddio subito dann vai provci ora eh si grande bella mira ok ok aspetta la mira di robinio c'ho vai ivi dai cazzo è un ultrabol sei di livello 10 lascia lascia ti catturare vuoi che te lo indebolisco e te lo catturo io mi dai le ultrabol e poi te lo passo? con la macchina? eh non lo so aspetta dai di quello ti puoi fidare tranquillo ok vai fai come vuoi tu dai prova a far fare a me tanto se muore non cambia niente passa la ultrabol ok è l'ultima? si purtroppo oh cacchio vieni qui ne ho spercate due anzi tre perchè Mari che fa cagare quindi visto l'acqua dai che non me lo uccide dai io intanto lo prendo a martellate guarda così giusto per fargli vedere che siamo in superiorità numerica esatto no ma l'ho ucciso ma vaffanculo ah ok brutto colpo ottimo oddio tra un livello si evolve il mio pokemon nel prossimo episodio mi sa che lo farà evolvere a questo punto tu sei ancora a livello 5 ok ragazzi abbiamo curato il pokemon più che altro io perchè ero in una situazione disperata e qua c'era un rattata che però è scomparso lì c'è pur un pigliamosche clark clu a livello 19 sopra di noi clarkent ok dov'è rattata? è scappato è fugito ah eccolo qua ok eccolo qui vai mi alleno con un rattata minuscolo a livello 9 che mi farà il culo lo stesso ti immagini che figura si vabbè buonanotte allora rattato porca fermati ma che cazzo è tom e jerry qua ahahah è fortissimo tatata vieni qua non ti devo fare nulla di male te l'hai fatta? ok fermo no scappa ancora vai devi anticipare le sue mosse ok l'ho ingaggiato oh alleluia dai attenzione dopo mezz'ora di tentativi azione sin da qui vai lui che non mi ha neanche attaccato lui ok ottimo dai buono vai vai ottimo ancora ancora vai azione azione lui mi fa colpo coda eh cazzo i tuoi adesso mi ha one shottato sin da qui non ci credo con attacco rapido ma basta vaffanculo vai marip vendicalo tutto vendicalo tutto dai porca puttana eh sto cazzo ha imparato thundershot vieni qua arti oh vai ecco mi sa mi curo no no e non possiamo lottare perchè se sale di livello lottiamo nel mio video perchè se sale di livello sai che si evolve voglio farlo vedere cazzo la scusa la scusa è vero ho troppo paura allora adesso ehm sin da qui cioè io ti giuro ne ho avuti un macello di starter io ho iniziato a giocare con pokemon giallo quando era uscito ne ho avuti un macello di starter ma mai così scarsi mai ma mai nessuno non è riuscito a battere un rato mai così scarsi prova con i magikarp mamma mia ma io quasi quasi lo volevo catturare un magikarp ma si ma catturalo te lo fai con un paringer vai sin da qui attenzione eh c'ha splash e basta io te lo dico sin da qui non dovresti morire in questo caso vai azione 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 attenzione azione oddio non lo sei oh ce l'ha fatta signori lo stupor hai apparato muro di fumo grazie al cazzo non ci serva nulla che stupor di volta quanto è piccolo spiro guarda eh si ma vai livello 17 vai un altro vai azione questo lo catturo magari si dai lo catturo questo vai provaci almeno facciamo tante belle cose tu doppia cazzo bag pokeball pokeball perchè è la ultra ball sto cazzo che la uso ahahahahah secondo me non ce la fai dai sai che ce la faccio un cazzo di magicarp indebolito ok grandissimo bella sono già con tre pokemon sono tutti e tre inutili ottimo ma ora ahahahahah ora la mia domanda è come farai a farlo salire di livello ah magicarp no ma adesso lui va nel box e sta lì mi sa non c'è la pensione pokemon qua in giro madonna magari ci posso magari dunque ehm facciamo un altro giretto di qua ok vediamo un po' cosa io veramente sto valutando di un pochettino i pokemon che ci stanno in giro per vedere quale catturare però mi sa che si si ma io te lo dico queste sono le catture iniziali sono i classici pokemon che poi nella fase avanzata oh questo è un pg di livello 5 a parte tutto pg questo potrebbe essere utile utile si evolve in un la terza evoluzione è abbastanza carina perchè impara volo tra l'altro può volare eh lo so ehm non so se catturarlo ma mi sa che più che altro lo lo uccido mh va bene vai provaci io prendo una ghiocca nera già che stavo passeggiando un po' beh così alleno un po' sin da quill sto cazzo un colpo mi ha tolto 15 hp madonna ma 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 oh oh ho trovato le cose per fare evolvere ivy in bifeon si si stanno vicinissime guarda eh ma te l'hai ucciso ivy madonna ma non posso fare niente il mio fatto che per mò però ho ottenuto bella dai oddio un pokemon shiny vieni dove sei oddio vieni qui arrivo vieni qui eren guarda il capo tutta mamma arrivo dov'è guarda ci sta uno shiny vuoi vedere che è un magikarp shiny che me lo catturo pure se non sto reccando no dai tieni tieni ma cos'è il punto è il punto viola quello viola erano gli shiny guarda ci stanno pure le cose dei liceon allora le cose dei ah minchia le rocce dei liceon si è in acqua e allora sto cazzo se trovo nivi io lo evolvo in questo eh si per forza è la cosa migliore oddio che cazzo è oddio che è dov'è un magikarp no che cos'è è uno slobro no non credo minchia sarebbe troppo no dov'è oddio oh un orsì un orsì un orsì livello 15 un orsì livello 15 ed è shiny ed è shiny cazzo prova con la ultra ball potitene anche se lo controvisto eh no aspetta proviamo a ingaggiarlo morirei sott'acqua te lo sto dicendo io muoio sott'acqua dai aspetta run golden escape dai ti prego cazzo un pokemon shiny al tono shock vai non lo uccidere ti prego tono shock ancora si no non lo uccidere vai 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 ora vai ora di ultra ball pokeball ultra ball attendi attendi prendilo ti prego prendilo ti prego attendi minchia ma dove ci mette sii 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 uno shiny sii aspetta sii sto morendo però non so a pochi mentre sei nella lotta no meno male minchia 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 meno male che ci sono io eh come faccio a tirarlo fuori mo eeeh vai al box send pokemon previous ah ok eeeh questa no vai no come si fa aiuto aiuto prova con aspetta così orsi ok orsi dov'è dov'è non è uscito rilancia rilancia in acqua lo devo tirare forse no non credo orsi orsi l'ho visto era lì vai rilancia no in acqua si mi sa però in acqua qua così lo vediamo eccolo qua oddio ma che bello beh insomma cioè un po' squadrato però però che cazzo di culo compare è figo il colore si è bello buono buono dai allora ho catturato già tre pokemon attenzione direi di concludere qui la puntata che è stata una bella puntatina e ricordatevi andate sul canale di arctic domani a questo punto perché domani ci sarà il suo video in cui catturerà i suoi primi pokemon e probabilmente evolverà anche il suo malkeep perché non è sega come il mio signo e ragazzi lasciate un macello proprio uno svarione di like commentate il video condividetelo per supportarci passate dal mio canale soprattutto esatto iscrivetevi guardate in descrizione se avete bisogno di un server c'è il servizio di hosting che ci ha offerto il server esatto e tante care cose noi ci sentiamo nei prossimi video che sarà nel mio video c'è un bel sprout questo te lo lascio salve a tutti ragazzi ci vediamo nei video di arctic ciao a tutti bella ciao a tutti